Stazione di Bracciano, siamo sul retro, ogni mattina tutti i cittadini che prendono il treno sono costretti a salire su questo muretto rischiando di farsi male. Ogni mattina avvengono cose scandalose. Mai nessuno si è interessato di trovare un'intesa con le ferrovie e fare un sottopassaggio. I cittadini di Bracciano sono costretti a attraversare sia il muretto che i binari. Bisogna andare dalle ferrovie dello Stato e creare un'intesa perché i cittadini non meritano questo. Bracciano merita rispetto.